Mi sono trovato bene, è stata la terza partita, la prima ufficiale e partita dopo partita mi sto trovando sempre meglio, sia fisicamente che nel gioco, quindi sono confidente andando avanti. Il primo tempo è stato più difficile, abbiamo sbagliato qualcosa nelle fasi statiche, in tush, però poi nella ripresa anche con i cambi si è migliorato e abbiamo messo la partita e l'abbiamo portato a casa. Sapevamo che una vittoria là non era mai stata fatta da Treviso, quindi è stata sicuramente una boccata ad aria e adesso andando avanti ci aiuterà sicuramente nel morale. L'importanza nella partita di domenica sarà sulle fasi statiche, sappiamo che Manchester è molto forte lì, quindi sicuramente bisogna mettere il focus lì, così dare palle pulite ai tre quarti e impostare la partita. Sicuramente è la prima partita, quindi aspetteremo molto pubblico e non vediamo l'ora di giocare.